Buongiorno da Monte Scaglioso, vi mostriamo subito queste immagini davvero inquietanti. Guardate questo supermercato, il piazzale è praticamente collassato, ci sono i pali in bilico, un lato si è accasciato, il lato destro del supermercato è praticamente accasciato, siamo a una quindicina di chilometri da Matera, dal capoluogo di provincia. E vi facciamo vedere anche questa è la strada che porta da Monte Scaglioso, che collega il comune con la strada 175, la metaponto Matera. Un fronte di frana che è molto molto esteso, circa due chilometri e qui c'è un dislivello sull'asfalto che si è praticamente accartocciato e collassato, un dislivello che arriva anche a 12 metri di profondità. Ovviamente la zona come vedete è messa in sicurezza, ci sono a presidiarla i vigili del fuoco, la polizia locale, i volontari della protezione civile, e ci sono anche i tecnici al lavoro, ormai da ieri sera perché ovviamente l'interruzione del gas è stata sospesa in tutta la zona per sicurezza. Cinque famiglie, cinque abitazioni sono state evacuate perché la frana è ancora in movimento. Guardate qui, vi mostriamo questa voragine, guardate. Davvero un dislivello impressionante. Un'automobilista ieri è riuscito a uscire appena in tempo dalla sua auto, non appena si è creata questa crepa nell'asfalto. Uno scenario davvero inquietante, si sentono ogni tanto ancora degli scricchioli. Guardate, davvero la Basilicata ora deve fare i conti con il dissesto idrogeologico dopo le piogge abbondanti delle ultime 48 ore. Questo è lo scenario che si presenta qui a Montescaglioso. Questo supermercato ovviamente è stato messo subito in sicurezza. Saffortunatamente non c'era gente all'interno, si è provveduto subito a evitare l'ingresso alle persone. Tutta la zona è completamente transennata. Guardate, qui la terra è continuamente in movimento. E se riusciamo a farvelo vedere, ecco vediamo con la telecamera, se riusciamo lì in alto, vicino a quel ripetitore, si vede il terreno che si sta lentamente abbassando. Si vede proprio il dislivello tra la terra più in alto e il prato lì, lì sotto. Questa è la situazione a Montescaglioso questa mattina. Fra qualche ora arriveranno i tecnici della protezione civile, arriveranno i tecnici, i geologi dell'Università della Basilicata, l'assessorato alle infrastrutture della regione per un sopralluogo, per capire come sia potuta accadere una cosa del genere. Cosa si può fare ora per mettere in sicurezza questa zona che, lo ricordiamo, è la via di accesso principale al paese. Era peraltro quella più utilizzata, la via principale. Ora restano altre due strade che però paradossalmente sono quelle più vecchie. Questa era la strada realizzata recentemente. Ecco queste le immagini davvero inquietanti che arrivano questa mattina da Montescaglioso, in provincia di Matera, mentre nel resto della regione le piogge hanno cessato di martoriare il territorio, si torna lentamente alla normalità. Le scuole oggi sono riaperte in molti comuni, restano chiuse soltanto in 5-6 comuni della Basilicata, ovviamente anche qui a Montescaglioso. Nel Metapontino, nell'area della fascia ionica lucana, si inizia a fare la conta dei danni per le aziende agricole, i campi e le attività commerciali allagate. Da Montescaglioso è tutto, vi restituiamo la linea.